Salve a tutti ragazzi, sono ZWX, nuovo evento della settimana e questa settimana la novità più grande sono i nuovi assassini giornalieri di Martin Madrazo. Per poterle giocare dovete avere per forza un'agenzia di cauzione, altrimenti non si potranno giocare. Cercate sulla leggenda dell'icona della mappa assassini di Madrazo e recatevi sulla icona. Dopodiché premete crocetta destra sul punto della mappa. Fatto questo leggete con quale arma Martin vuole che ammazziate il bersaglio. In questo caso oggi bisogna uccidere il bersaglio con un fucile a pompa qualsiasi. Cercate il bersaglio nella foto all'interno del cerchio giallo, uccidetelo, scattate una foto per Martin del bersaglio appena ucciso, allontanatevi dalla zona e avrete completato questa sorta di caccia alla taglia. Solo questa settimana, grazie al doppio guadagno di dollari ed RP, ogni assassino di Madrazo pagherà 40.000 dollari più 20.000 dollari per aver rispettato l'arma bonus, come anche 1.000 RP. Senza bonus doppio guadagno immagino che la cifra sarà di 20.000 dollari standard, più 10.000 dollari per aver ucciso il bersaglio con l'arma bonus e 500 RP. Questi assassini giornalieri si possono fare una volta al giorno e cambieranno ogni giorno a partire dalle 8 del mattino nella vita reale. Se non riuscite a trovare la locazione, vi lascerò un link qua sotto nella descrizione che vi mostrerà le locazioni giornaliere di questi assassini di Madrazo. Contate che in una sessione pubblica le locazioni potrebbero variare, in privata invece tipicamente il punto rimane fisso, se non ci sono diversi giocatori che stanno facendo lo stesso assassino giornaliero. Completando 3 assassini giornalieri di Madrazo questa settimana, non solo riceverete chiaramente i 60.000 dollari al giorno per ogni assassino giornaliero completato, facendo tutto bene, ma anche 100.000 dollari bonus visto che si tratta della sfida della settimana. La seconda novità più grande della settimana è la possibilità di poter acquistare il SUV Canis Castigator su SUV San Andrea Super Autos a 1.650.000 dollari. In alternativa potete ottenerla gratis solo su Next Gen, completando tutte e quattro le aree dei progressi carriera. I bonus guadagno dollari di RP della settimana sono Doppio guadagno di dollari di RP su tutte le cacce d'Italia di Martin Madrazo, insomma gli assassini giornalieri, come anche su tutte le sue missioni contatto, le missioni contatto di Martin Madrazo. Doppio guadagno sulle scorte di Gerald e sulla modalità competizione caccia a Rhino. Doppio guadagno di dollari e quadruplo guadagno di RP su tutte le gare Hot Ring ed infine triplo guadagno di dollari di RP su tutte le attività della community. Allo sfascia carrozzi abbiamo il colpo del podio del casino della Virtue, il colpo dell'Arena War della Vapid Dominator ASP e il colpo della nave merci della Cliquet. Al casino potete vincere la Cucciu Drag, all'autoraduno potete vincere la Warner HKR, dovete vincere una gara della serie di gare dell'autoraduno di Los Santos per due giorni di fila. All'autoraduno potete testare la Raiden, la 811, la Bullet e la S95 di Ao. Da simile potete testare la Cognoscenti, la Bowler LE, la Stinger GT, la Exer e la Obey 9F Cabrio. Infine alla Luxury potete osservare sia la Castigator che la Yosemite 1500. Prova a tempo della settimana in questi punti della mappa, oggi il furgone dell'armi si trova qui e presenterà queste armi per tutta la settimana. Infine gli sconti della settimana sono 30% di sconto su tutti gli appartamenti, sulla Coin Raiden, sulla Kanjo SJ, sulla Stinger GT, sulla Overflow Tyrant, sulla 811, sulla Nero ed infine sulla Vapid Bullet. Quindi niente ragazzi, da ZWX è tutto, noi ci sentiamo al prossimo video!